Ok, siamo live. Buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa enorme enciclopedia online in cui ogni giorno mettiamo un pezzettino nuovo. Oggi sono felicissimo perché indagheremo il mondo dell'analogico, soprattutto il bianconero, insomma in modo approfondito e anch'io spero di imparare tantissime cose, anzi ne sono sicuro, e lo faremo con un super esperto che sono felice di ospitare. Alla mia sinistra, Jacopo di bianconero, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, come stai? Malissimo, grazie. Dovete sapere che abbiamo dovuto un attimo tribulare per far sì che tutto funzionasse al meglio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi adesso è perfetto. Speriamo, siamo su telefono cellulare. No, no. Una cosa che consiglio a tutti i miei clienti è quello di pulire la cam, adesso la pulisco. Esatto, tac, è diretta così, una bella pulizia di cam. Ecco, adesso non si vede più niente. No, ma adesso riprenderà, spero, insomma. Ok, va bene. Chiaramente era uno scherzo, perché ai miei clienti non consiglio di usare i telefoni per fare le fotografie. Era una battuta. Esatto, esatto. No, spieghiamo un po' alla gente che non ti conosce chi sei e cosa fai. Allora, sono un umile stampatore in bianco e nero. Il mio mestiere si chiama così, stampatore. Poi nella realtà, cos'è? Ho un laboratorio fotografico tradizionale bianco e nero. Qui a Milano, in Via Solari, mi occupo solo ed esclusivamente di fotografia analogica in bianco e nero. Quindi sviluppo negativi di ogni genere, basta che sia bianco e nero, quindi di ogni dimensione. Eseguo stampe di varie tipologie e insegno a chi è interessato queste tecniche, questa attività particolare. Che spettacolo! A livello hobbystico o a livello professionale, ma soprattutto hobbystico, visto che noi professionisti siamo veramente pochi. Quindi dici, se una persona vuole imparare a sviluppare il rullino anche in casa, così è, può fare un corso per impararlo, è questo? Esatto, esatto. Sono sempre disposto, tempi permettendo, problemi di tempo permettendo, sono sempre disposto a insegnare a chi è interessato lo sviluppo, ma soprattutto la stampa. Bellissimo. Tra l'altro dopo ne parleremo un po', perché insomma io sono super curioso di questo argomento. Tra l'altro stavo proprio cercando un corso da fare appena, insomma, appena tutta la situazione si tornerà normale, diciamo, e allora verrò a fare un corso, sappilo. Sarò un tuo studente. Bene, ti aspetto. E ti chiedo, come hai iniziato in questo mondo? Quando, quanto tempo fa hai aperto il tuo studio? Sì. Allora, io ho 46 anni e forse sono ancora uno dei più giovani che si occupa di questa cosa per lavoro, diciamo. Sono nel settore da tantissimi anni, perché la mia è stata una scelta ponderata da giovanissimo di occuparmi di fotografia. Io ho finito il liceo scientifico e subito dopo la maturità scientifica mi sono iscritto a scuole di fotografia professionali. Quindi ho studiato tre anni fotografia, ho iniziato facendo il fotografo perché quella era la mia idea e poi dopo qualche anno e qualche esperimento invece ho capito che la strada del fotografo non era la mia, non era il mio mestiere, pur essendoci un'enorme passione per la fotografia e nel 2000 ho iniziato questa attività di laboratorio fotografico bianco e nero. Quindi è dal 2000 che io passo le mie giornate lavorative in luce di sicurezza o al buio. Quindi sono vent'anni. Veraviglia, bellissimo. Ma senti, tu non solo, come dire, lavori per una nicchia, che è quella dell'analogico, ma in più lavori per una nicchia della nicchia, perché solo bianco e nero praticamente. Esatto, esatto, sì. Sono super specializzato e poi faccio solo quello, non faccio altro. Fantastico. Che a livello marketing i grandi, capito, i grandi test del marketing direbbero che hai fatto benissimo, no? Perché sei andato proprio a colpire una super nicchia. Ti chiedo, com'è questo, l'analogico in generale e ovviamente l'analogico in bianco e nero oggi in quest'epoca in cui il digitale sta prendendo così tanto piede? Va molto bene. Bene, è chiaro, io ho un'immagine distorta, perché io mi occupo solo di questo e quindi da me vengono solo persone che cercano questa tipologia di fotografia. Il lavoro è tanto, o addirittura tantissimo, però è anche vero che siamo molto in pochi a farlo, questo lavoro, a un certo livello. Quindi sicuramente non sono tantissime le persone che amano l'analogico in bianco e nero, però a me sembra che siano tantissime, non so come spiegarti. Comunque il trend è in crescita, ecco questo te lo posso dire, il botto del digitale che ha aggredito tutti i laboratori italiani è avvenuto dal 2000 al 2005, lì c'è stato il tracollo. Poi piano piano con gli anni invece siamo arrivati al picco più basso, diciamo, tanto per rimanere in tema di picchi e piattaforme, e poi c'è una risalita lenta e costante che avviene ancora oggi. È una questione di moda in un certo senso, quindi parlo della moda del vinile, della moda del vecchio, del fascino, del vecchio mestiere, dell'artigianalità, della cosa ricercata, c'è questo come ragione, ma poi c'è anche la ragione della reazione al troppo digitale. Quindi tanti amatori, ma anche in parte anche i professionisti, dopo un'indigestione di digitale e un certo appiattimento di stile, di problematiche, di sapore, hanno bisogno di qualcosa di diverso, di nuovo e quindi interviene l'analogico bianco e nero. È sempre un circolo di moda, e di risposte e di reazioni. Io mi ricordo quando ero piccolissimo, io sono nato nella prima metà degli anni 70, c'era una voglia di colore esagerato, perché si arrivava da un mondo più o meno in bianco e nero, oppure con dei colori un po' slavati, si voleva il colore, perché era un effetto speciale il colore negli anni 60-70. Oggi è il contrario, l'effetto speciale è il bianco e nero, perché viviamo in un mondo ipercolorato, ipertecnologico e allora il bianco e nero ha il suo fascino e paga il creativo, con una marcia in più. In qualche modo è ancora un'epoca super rosea per quanto riguarda il discorso analogico e credi che lo sarà sempre di più in futuro? Credi che si stabilizzerà? Ne sono certo, ne sono certo, perché ormai è validissimo questo concetto, vuoi qualcosa di più complicato, perché il bianco e nero analogico è più complicato del digitale, però hai bisogno di qualcosa di più complicato, di più lento, di più cerebrale, in un certo senso di più nobile, perché poi parliamo della tecnica che ha dato il via alla fotografia, la fotografia in bianco e nero, vuoi qualcosa di meno realistico, perché poi un'altra cosa che dico è la fotografia in bianco e nero è la cosa meno realistica che esista, è la cosa più imprecisa che ci sia in ambito fotografico, perché la realtà è a colori ed è estremamente precisa e una ripresa in bianco e nero analogico non copre tutto lo spettro del delle luminanze, perché tu con i tuoi occhi puoi vedere dentro una finestra, ma in analogico bianco e nero se vedi bene fuori non vedi bene dentro casa o dentro le ombre e quindi hai delle mancanze di informazioni che però rendono l'immagine più espressiva, perché poi il bello è pilotare questa perdita di informazioni che avviene con la ripresa analogica in bianco e nero, pilotare questa perdita proprio uso e consumo per l'espressività. Meraviglioso. E ti chiedo, come mai poi ti sei spostato solo sul bianco e nero e non su un analogico in toto? Hai deciso proprio di specializzarti solo lì? Beh, diciamo l'analogico è bianco e nero e colore. Io ho evitato il colore per alcune ragioni. La principale è che il colore ha ancora una certa, subisce una certa concorrenza col digitale, soprattutto anni fa, ma secondo me ancora oggi. Poi il processo fotografico a colori è meno variabile, meno controllabile, meno alterabile, ecco. Non si può fare tantissime cose creative con uno sviluppo e poi una stampa a colori analogica, mentre con il bianco e nero è tutto molto più complesso e quindi molto più variabile, molto più personalizzabile. Ah ok, bellissimo. Tra l'altro ti saluto a Settimio Benedusi e squadra di Baudouac. Ciao Settimio, grande! Michaela dice ciao a entrambi. Ciao anche a Michaela, ciao! Dice ciao a entrambi, Jacopo è un bravissimo insegnante con pazienza e professionalità, ti prende per mano e ti fa capire tutti i passaggi. Poi la sua calma è meglio di un corso di yoga. Beh, immagino che comunque sia un procedimento che richieda del tempo, di conseguenza in qualche modo lento, no? Che ti insegna la lentezza, o sbaglio? Sì, sì, il punto di partenza è sicuramente la lentezza. Poi per quanto riguarda i corsi è chiaro che alcuni entrano magari un attimino in panico e allora io tendo a tranquillizzare, tendo a non mettere fretta nelle cose, eccetera. Proprio per chi approccia queste tematiche che all'inizio sembrano veramente molto complesse. Per quanto riguarda il mio lavoro di laboratorio, la mia è una velocissima lentezza. Perché il problema è all'interno di un laboratorio di un'attività del genere mantenere dei prezzi accettabili e però avere un certo reddito e una certa flusso di lavoro. Per cui io poi quando sono da solo a stampare devo essere velocissimo, ma molto lentamente. Non so come spiegare. No, no, ma hai reso verissimo l'idea. Mi piace tantissimo però questo concetto, è geniale. E quindi arrivo a sera dopo dieci ore di camera oscura che non riesco quasi a camminare. Certo, lo immagino. Prima dicevi che ti piaceva tantissimo la fotografia, no? E quindi, cioè, proprio anche fare il fotografo, no? Poi hai, diciamo, smesso comunque, immagino tu lo tenga, non so, magari come passatempo o qualche volta piacevolmente fai qualcosa. Sbaglio? Sì, 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 ogni tanto faccio qualcosa, sì. Ti sei dedicato alla stampa di foto principalmente altrui. Com'è questo ruolo? Perché credo che sia un po' come in musica quello che fa il mastering al disco, no? Cioè loro ti portano il disco e tu, capito, lo rendi migliore, cioè lo valorizzi ecco in qualche modo. Sì. Com'è il ruolo? È un ruolo estremamente complesso. Hai toccato uno dei punti scottanti della mia professione perché lo stampatore ha in mano un potere esagerato per quanto riguarda il destino dello scatto che va reso su carta. Per cui pochi lo sanno, tra parentesi, che uno stampatore può veramente fare tantissime cose sia nel bene che nel male. Quindi bisogna stabilire qual è il male, qual è il bene e poi nelle opzioni del bene trovare quella giusta per lo scatto per l'autore, per lo stampatore e per il pubblico che fruirà di quella determinata immagine. Quindi ci si muove su terreni impervi ogni volta che si stampa, soprattutto quando si tratta di autori che hanno un proprio gusto, una propria personalità, una propria storia e delle esigenze specifiche e quindi non è facile insomma. Io credo che uno stampatore, ci sono due filosofie su questa tematica degli stampatori bianco e nero. Gli stampatori che impongono una propria identità, una propria impronta, un proprio stile di stampa, quindi usano sempre quello e sono i clienti che si rivolgono a questo stampatore perché accettano questa personalità. Altri stampatori invece sono multisfaccettati, hanno varie personalità e riescono a incarnare varie personalità e a contentare tipologie di clienti diverse. Io faccio parte di questa seconda corrente di pensiero, mi sforzo di non mettere davanti la mia personalità, ma di in un certo senso seguire la personalità del committente. E quindi delle giornate faccio cose estremamente violente e aggressive e forse io un po' me la sento meglio e altre volte sono estremamente delicato, estremamente misurato, estremamente rispettoso del negativo, delle tonalità di grigi, dei contenuti, eccetera eccetera. Fortunatamente mi diverto a fare tutte e due le cose. Ammesso che siano solo due perché ho dato i due estremi, poi ci sono tutte le vie di mezzo insomma. Bellissimo. Da fotografo 99,99% digitale no? E noi fotografi digitali siamo abituati a ti fai le tue foto, vai a casa, te le sviluppi, te le postproduci, ti fai tutti i tuoi cosini piru piru bla bla bla, te le esporti, poi non so io sono stampatore di fiducia, vado da lui, me le faccio stampare, sapo già la carta come rende, la mia postproduzione su quella carta, mi ha già fatto tutti i test e ho la mia foto stampata come la voglio, bellissimo. E invece qui c'è una figura che in qualche modo con la quale io devo entrare in relazione e mentre prima un fotografo digitale è comunque concentrato su tutto il processo, qui invece parte del processo è condiviso. Perciò ti chiedo no? Per esempio ipotizziamo io domani mattina vengo da te con un rullino. Sì. Come facciamo poi? Cosa succede? Cioè ti dico vorrei stamparlo? Ok, tu sei proprio un ignorante, entri da me e mi dici ciao, tieni questo rullino, mi fai sviluppo e stampa? Esatto. E io ti dico subito assolutamente no, ti faccio lo sviluppo e il provino a contatto che costa da me oggi come oggi 15 euro e lì iniziamo a vedere che cosa è successo. Tu avrai un provino a contatto che è un foglio di carta fotografica ai sali d'argento 24x30 con le strisce del negativo viste in positivo. Quindi avrai le tue immagini grandi quanto sono grandi i negativi che hai utilizzato perché poi ci sono varie dimensioni di negativo. Ok, certo. Quindi quando io sono pronto dopo alcuni giorni che tu mi hai portato il negativo, perché c'è qualcuno addirittura che me lo chiede in un'ora e chiaramente gli scatta la risata. Anche se è una lentezza velocissima non è così velocissima. No, assolutamente no. Quindi dopo alcuni giorni ci rivediamo, io ti consegno il contatto, io guardo i negativi, tu invece guardi il contatto e vediamo cos'è successo. Io ti racconto delle cose che magari tu non vedi, che sono l'esposizione, la qualità dell'ottica che hai usato, la qualità della pellicola, eventuali difetti, eventuali imperfezioni e magari scegliamo tre, quattro, cinque, alcuni addirittura venti immagini e le stampiamo. Le stampiamo e tu mi racconterai magari che genere di stampe vorresti, forti, delicate, tenebrose, non so cosa, io parto con delle stampe che ti darò dopo alcuni altri giorni, dopo una settimana o due a seconda di come sono messo, a seconda di che stampe mi chiedi, ti chiamerò e così scopriremo cosa è successo. Chi inizia, inizia con stampe piccole ed economiche, io ho i 13-18 di carta politenata che sono le stampe più piccoline economiche che faccio e con 5 euro al pezzo te la cavi. Bellissimo. Allora, quindi, primo processo, io vengo da te, c'è lo sviluppo. Sì. E ora ti chiedo, quanto influisce la mano dello sviluppatore nello sviluppo di un negativo? Nello sviluppo del negativo, purtroppo già lì ci sono vari modi per svilupparlo. Purtroppo le variabili nell'analogico sono tantissime, ma la prima scelta non è lo sviluppo ma la pellicola stessa. In commercio ci sono parecchie pellicole di parecchie marche e già lì tu devi fare una scelta. Dopodiché porterai al laboratorio il tuo rullino e il laboratorio avrà decine e decine di chimiche a disposizione sul mercato e ciascuna di queste decine di chimica potrà essere sviluppata in decine di modi diversi e anche qui è un casino totale. Ecco, bene. Partiamo proprio... E quindi potresti ricevere dei negativi rovinati, devastati da un idiota oppure migliorati al massimo da uno bravo e appassionato. Ok, però visto che anche lì lo sviluppo già dà al negativo una forma in qualche modo, no? Un fotografo esperto ti dice già per esempio come vorrebbe sviluppare il rullino o comunque per ogni rullino c'è comunque diciamo una formula magica tra virgolette che è la migliore per quel rullino lì? Oppure si può personalizzare volendo? Allora sì, tutto è personalizzabile. Diciamo che il fotografo esperto, che ne so, settimio, viene da me con le pellicole già giuste e me le molla sul tavolo e se ne va via subito senza neanche dirmi niente. Perché la creatività, l'alta qualità eccetera hanno una filiera estremamente semplice. Le pellicole che uno deve comprare sono due o tre e sono le più normali e diffuse e conosciute negli ultimi 60 anni perché sono sempre le solite Kodak o eventualmente alcune Ilford, io ho la chimica tarata per queste pellicole di altissima qualità e affidabilità e i professionisti vengono lì e mi mollano le pellicole giuste senza dirmi niente e non hanno neanche fatto cose strane di esporle a stop, sensibilità differenti rispetto alla sensibilità nominale, adesso sto entrando un po' nel tecnico, ma si va via proprio lisci e tranquilli. Poi c'è invece tutta la fetta amatoriale che compra le pellicole in Giappone stese sulla carta di riso e mi chiede lo sviluppo in salsa di soia con aggiunta di urina di pipistrello di One e allora lì vengono fuori dei casini esagerati, ma alcuni si divertono così. E io anche tra parentesi, il mio lavoro è bello perché è vario, quindi c'ho il pazzo che mi scatta con la fotocamera di legno comperata a Londra spendendo 9.000 euro fatta l'altro ieri da un ebanista oppure un altro che compra la macchina di legno dei mercatino di Sinigaglia e usa pellicole scadute comprate all'asta su ebay e robe dell'altro mondo, ma il mio Instagram è pieno di cose sia super pulite che super sporche, perché è bello fare un po' di di tutto e quindi siano benvenuti anche in matti con le cose più assurde. Certo, tra l'altro se volete andare su Instagram lo trovate nella descrizione del video così potete vedere un po' tutti i suoi lavori, tutto quello che fa, è pazzesco, bellissimo. Ok, quindi perfetto, quindi abbiamo già capito che sullo sviluppo già ci sono mille ipotesi di sviluppo diverse, però abbiamo anche capito che di solito diciamo se vuoi un risultato ottimo è comunque un processo standard, cioè per ogni pellicola c'è un suo processo ottimale in qualche modo, all'incirca più o meno, così per farla semplice. Ecco, per gli amanti della tecnica posso dire questo, una pellicola non è bella o brutta in quanto tale, ma è buona o pessima in base anche allo sviluppo con cui è stata sviluppata, per cui ogni pellicola può avere uno sviluppo dove funziona bene o abbastanza bene, però il consiglio che do a tutti, soprattutto a chi inizia e si avvicina è di comprare negativi ben conosciuti e ben reperibili sul mercato e di iniziare a fare le cose normali, che poi guarda caso sono quelle che usano i grandissimi professionisti. Poi piano piano quando hai capito come esporre una pellicola, come funziona lo stampatore o lo scanner, perché poi ho molti clienti che si fanno le scansioni dei miei negativi, io non ho lo scanner nel mio laboratorio, io sono un integralista analogico, quindi non ho scansione, non ho servizi di scansione o digitalizzazioni varie, quindi io faccio lo sviluppo, il provino e la stampa eventualmente. E quindi poi piano piano uno può anche andare a cercare le cose strane, ma all'inizio è meglio partire proprio base. Ok, e dai diciamo due o tre pellicole basic, basic, che una persona dice vabbè voglio iniziare oggi a fare le mie prime foto in analogico, in bianco e nero mi prendo quelle. Sì, sono le Kodak, Kodak T-Max 100 e 400, i numeri che darò sono le sensibilità, la sensibilità di una pellicola è la capacità di questa pellicola di funzionare con una determinata quantità di luce. Meravigliosa. Quindi le 100 e le 400 sono le sensibilità normali, diciamo, la 400 è più facile, quindi io consiglio di iniziare col 400 Asa e quindi le Kodak 400, T-Max, piuttosto che la Kodak 3X, che è un 400, anche questa è una pellicola storica che c'è da decine e decine di anni, oppure in casa Ilford la FP4 che è un 125, oppure la HP5 che è un 400. Ok, perfetto. Basta. E da qui non ci si muove. E queste sono le pellicole, attenti, lo devo dire tre volte, sono le pellicole che usano i grandi professionisti. Ok, e qual è la differenza tra Kodak, per esempio, non so, una 400 Asa, Kodak e una 400 Asa Ilford? Allora, per le due pellicole che ho nominato io, le differenze sono piccole. Ok. È più bella, sempre parlo della mia chimica, che chimica è? Attenzione, l'ho detto prima, il giudizio che si dà su una pellicola è anche in base alla chimica che si utilizza. Quindi per una chimica di altissima qualità, moderna, fine granulante, nata dalla polvere e non già comperata in liquido, quindi sono chimiche che preparo io partendo da polveri, allora è leggermente meglio Kodak. Kodak perché è un po' più limpida, ha un velo inferiore. Il velo è la parte trasparente della pellicola, quella che andrà a creare il nero in stampa. Ecco. Per gli amanti della tecnica, io non ho segreti, che chimica utilizzo? Io utilizzo il Kodak D76 o il Ford ID11. Dico due nomi perché la preparazione poi chimica, la composizione è praticamente identica tra le due case. Ok. Così abbiamo soddisfatto l'esigenza dei neofiti e quella degli esperti. Sì. Sì. Meraviglioso. Allora, io penso, vabbè, ma sai cosa? Mi sviluppo il rullino a casa, quindi faccio un pastrugno, mi sviluppo la mia roba, poi ce l'ho lì, lo scansiono, ce l'ho sul computer, lo posto su Instagram e siamo tutti felici. Sì. Però non è esattamente quello che fai tu, al di là del fatto che tu lo fai meglio, già solo il primo processo, però in realtà poi ci sono altri processi che tu fai in modo differente, come dicevamo, analogico. Quindi cosa si fa dopo? Dopo averlo sviluppato il rullino? Allora, dopo aver sviluppato il rullino c'è questa scelta che si può fare, può fare in autonomia il cliente oppure con la mia assistenza, perché spesso mi si coinvolge nell'editing, ovvero nella scelta, nel consiglio di cosa stampare e cosa no. Comunque si individuano dei negativi da stampare e mi si affidano questi negativi da stampare, decidendo la tipologia di carta, la dimensione della stampa ed eventualmente degli interventi extra che si possono fare in stampa per quanto riguarda le atmosfere, i contrasti, eventuale taglio o rinquadratura dell'immagine e altre varie alterazioni, per non parlare della grafica con cui viene impaginata l'immagine sul foglio, bordi bianchi, grandi, piccoli, filo nero fine fotogramma, filo nero rovinato, viraggi eventuali che sono delle intonazioni che danno dei leggeri colori alla stampa e tantissime altre cose. Tipo il seppia per intenderci più o meno. Il seppia è il viraggio più conosciuto, poi ce ne sono molti altri. Ok, ma no, però io volevo capire proprio fisicamente, cioè come fa un pezzettino di negativo a diventare un foglio stampato? Cosa fai? Che magia fai? Allora, per stampare un negativo occorre uno strumento che si chiama ingranditore. L'ingranditore è un proiettore che proietta l'immagine trasparente del negativo su un piano orizzontale. Su questo piano orizzontale io metterò un foglio di carta sensibile fotografica, sarò in luce di sicurezza, quindi la famosa luce rossa, e farò questa proiezione sul foglio. Poi prenderò il foglio e lo andrò a bagnare dentro delle bacinelle, e sono tre o quattro a seconda dei casi, con dentro gli famosi acidi, che poi in realtà si chiamerebbero chimica e quindi c'è un rivelatore che è lo sviluppo, in cui l'immagine compare. Finito lo sviluppo si usa un arresto, che è un acido acetico, che serve per pulire la carta dallo sviluppo, e poi la terza bacinella è un fissaggio. Il fissaggio è un prodotto chimico che annulla la capacità di questa carta fotografica di reagire alla luce, quindi dopo il bagno del fissaggio io finalmente posso accendere la luce normale, bianca, e vedere che cosa ho fatto. Ok, che è quella luce un po', la luce di sicurezza è quella luce un po' rossa che si vede nei film così tanto romantica? Sì, la più famosa è rossa, ci sono anche arancioni. Ah ok, perfetto. E una persona che volesse... e tutto questo è la camera oscura? Sì. Se una persona volesse farsi una camera oscura nel bagno? È possibilissimo. E tu reputi che sia una cosa interessante, divertente, intelligente, o è meglio rivolgersi sempre a un professionista? È possibilissimo fare la camera oscura in bagno, ma visto che io la disgrazia di fare le cose col telefono. Vediamo se riesco a farti vedere un ingranditore. Dai fammelo vedere. Questo è l'ingranditore, questa è la testa, scendo e questo dove ho la mano è il piano carta. Perfetto, chiaro. Ok. Quindi quella è la tua camera oscura? Questa è un pezzo della mia camera oscura che stai vedendo, io sono dentro la mia camera oscura. Certo che se non c'è una vasca da bagno è tutto meno romantico. No, scherzo. Una vasca da bagno? Io ho la vasca, caro. Aspetta che ti faccio vedere la vasca. Ma non è una vasca da bagno, è la vasca dallo stampatore, guarda. Ok, fantastico. Meraviglioso. Non so cosa si è visto comunque. No, no, si è visto, si è visto. Beh, non in dettaglio, ma si è visto. Quindi dicevamo, tu consigli alle persone a casa di in qualche modo provare, magari appunto dopo aver fatto un corso, cioè con un minimo ovviamente di studio e con iniezioni di causa, ma di costruirsi in casa una camera oscura, oppure dici no, comunque guarda, puoi farlo, ma alla fine conviene sempre andare dallo stampatore. No, no, è consigliatissimo farsi la camera oscura in casa, perché è estremamente divertente, non è impossibile. come cosa. E alcuni veramente trovano in questo il loro hobby. È fantastico. Basta un bagnetto o addirittura neanche un bagno, ma una stanza anche senza l'acqua corrente. Ci vuole semplicemente un tavolo su cui mettere un piccolo ingranditore. Quelli che ti ho fatto vedere sono dei mostri professionali, ma ci sono degli ingranditori molto piccoli, economici, che si possono togliere e mettere nell'armadio quando non si usano. E poi un piano per mettere le bacinelle si può fare anche in una camera da letto o dei clienti che stampano in cameretta, per dire, dei ragazzi che vivono ancora in famiglia. Poi vanno a letto e si respirano gli acidi e si svegliano storti? No, no. Per svegliarsi storti bisogna comprare qualcos'altro. Gli acidi non danno quel genere di reazione, anzi, probabilmente si svegliano felici di aver creato delle immagini in autonomia. E comunque è chiaro che a casa, salvo rare eccezioni, non si riesce ad arrivare a dei livelli di qualità eccezionali. Per qualità intendo anche la pulizia dell'immagine stampata. Però è di enorme soddisfazione. Alcuni clienti a cui io ho insegnato a stampare stampano a casa dei layout che poi mi portano per avere la stampa di sapore e qualità professionale. Questo è un ottimo strumento per risparmiare tempo e soldi in laboratorio. Vai già con una prova di stampa, magari non è ottima, però serve per parlare con lo stampatore. Quindi mi fanno vedere la stampa. Jacopo, questa è quella che ho fatto io, la voglio più o meno così, ma un po' più di qua, un po' più di là, un po' più di su, un po' più di giù. E però io ho già un buon punto di partenza. Certo, ma quindi consigli di fare la stampa e lo sviluppo, oppure solo la stampa, oppure solo lo sviluppo per iniziare? Sono due attività molto diverse, lo sviluppo del negativo e la stampa del negativo. Sviluppare un negativo a casa è molto più economico dal punto di vista dell'acquisto delle piccole attrezzature che servono. Però è anche molto pericoloso, perché la fase di sviluppo di un negativo è molto delicata e stai intervenendo sul tuo file originale, tanto per capirci. Se rovini il negativo hai rovinato per sempre quell'immagine. E poi è molto noiosa purtroppo questa attività di sviluppo, perché è lunga, i negativi si sviluppano dentro una tank. La tank è un piccolo contenitore chiuso dove non vedi niente e in questo contenitore c'è un buco fatto in una certa maniera che permette di far entrare e uscire la chimica, ma non far entrare la luce, perché il negativo non deve essere assolutamente colpito dalla luce quando è in fase di sviluppo. Quindi vai avanti per 40 minuti a shakerare questa tank senza vedere niente. E se sbagli rovini tutto o danneggi in parte il negativo. Quindi è una cosa che molti fanno, perché appunto è molto economico e lineare il lavoro, ma è molto rischioso. Economico fino a un certo punto, perché poi c'è una questione di chimica. Cioè se uno fa un rullino al mese, sviluppa a casa un rullino al mese, spende molto, perché questa chimica verrà utilizzata poco e dovrà essere buttata per vecchiaia, purtroppo. Mentre per quanto riguarda l'attività di stampa a casa, è più costoso, perché devi comprarti un ingranditore, delle bacinelle, dei timer, tante piccole cosine che ti servono per stampare. E poi devi avere molto più spazio, perché ti ci vuole comunque almeno un ripiano di un paio di metri di lunghezza per mettere su bacinelle ingranditore, ecco. Però molti ce la fanno, oltretutto la chimica, le attrezzature sono tutte reperibili in commercio, sul web o in alcuni negozi specializzati, per cui è fattibile. C'è chi vuol provare, poi alcuni vanno avanti, alcuni si stufano, ma però è molto divertente. Assolutamente, ma tu dici, cioè per esempio a una persona che inizia, prova, fai lo step tipo sviluppo, poi mandi la stampa oppure la scansione semplicemente, che peraltro ci sono anche tanti video in cui vedo, non so, fanno la scansione tramite la macchina fotografica, non la mettono sotto il pannello, cioè proprio alla... Tu non ascoltare, che magari ti vengono i brividi, però si può fare... No, ma io non c'è problema. Sai, con la macchina fotografica da sopra fai la foto e la importi così, quindi dici, vai per step, imparagli step, oppure fai lo sviluppo perché è qualcosa di più interessante e divertente rispetto alla stampa, oppure il contrario? Quale pensi sia? Allora, io, sì, ai miei carissimi clienti consiglio di evitare lo sviluppo, che poi è una cosa che proprio faccio contro i miei interessi, perché anche per un laboratorio sviluppare negativi è noioso, pericoloso e poco remunerativo. Però è chiaramente un servizio che dobbiamo dare per completezza e soprattutto perché poi io preferisco poi una volta stampare un negativo sviluppato da me, che è più facile a volte stamparlo, che non sia sviluppato da un cliente male, capisci? Perché se poi mi trovo un negativo sviluppato male ho problemi da risolvere. Però comunque io consiglio, proprio nell'interesse dell'amatore, eventualmente di investire tempo e denaro per la stampa, piuttosto che per il negativo. Dà molta più soddisfazione la stampa, anche se costa di più comprare le attrezzature. Mentre lo sviluppo del negativo è una roba che bisognerebbe affidare a un professionista. Soprattutto se uno poi magari fa un rullino ogni due settimane, non ha una convenienza svilupparselo da solo. Chiaro. Hai parlato spesso di scansione del negativo. C'è una seconda opzione, che è l'opzione dei furbi. Ecco, qua ci tengo molto a dirlo. Invece di scansionare i negativi, viene molto meglio scansionare delle stampe. E non è detto che debbano essere delle stampe estremamente prestigiose e costose, ma una stampa di camera oscura, quindi una stampa chimica, è diversa dal negativo di provenienza. Contiene delle tracce di mascherature e bruciature, degli interventi manuali, delle piccole imperfezioni, una grana che è diversa da quella del negativo di provenienza. Scansionare un negativo e vederlo poi in positivo è molto simile in un certo senso a un digitale. Per avere il sapore dell'analogico vero e violento, bisogna avere la stampa. Da lì non se ne esce. Ci sono dei libri fotografici che derivano da stampe, che possono essere o scansionate o riprodotte. La riproduzione è rifotografare in digitale la stampa analogica. Dei libri che derivano da una tecnica che ho detto, quindi partendo dalla stampa, che hanno un sapore molto più raffinato di libri che sono stati ricavati da scansione di negativi. Non so se mi sono spiegato. No, ti sei spiegato. Cioè tu dici, al posto che scansionare il negativo, farlo diventare positivo e spippolarlo sul computer, che sì, è carino, ma fino a un certo punto, scansionate piuttosto delle stampe fatte in camera oscura anche da voi stessi, questo dici. Esatto. Hanno molto più sapore le scansioni delle stampe che non le scansioni dei negativi. Infatti alcuni maestri del Photoshop che vogliono avere il sapore di camera oscura fanno delle finte mascherature e bruciature, che sono delle sfumature misteriose che trovi all'interno di un'immagine in bianco e nero che ti danno quell'idea dell'analogico, ma sono magari artefatte. In realtà sono vere, sono imitate da noi, da noi stampatori, dall'attività di stampa analogica, insomma. Il vero sapore lo si ottiene con la stampa, non con la scansione del negativo. Ok, chiarissimo. Chi vive di scansione di negativo, io lo dico, ma senza problemi, sarebbe meglio che partissi direttamente in digitale. Perché devi usare il negativo e poi lo scansioni e ti fermi lì? Converrebbe il digitale e basta. Hai ragione. Domanda. Quando dicevi di prezzi, no? Dicevi, ah, questo è un po' più conveniente, questo è un po' più costoso. Diamo un'idea di prezzo per partire con lo sviluppo. Fermo restando che con lo sviluppo, poi dimmi se è la stessa cosa anche per la stampa, però con lo sviluppo gli acidi scadono e quindi se fai, appunto, se fai un rullino ogni due settimane, alla fine è poco conveniente, però è interessante capire quanto sarebbe idealmente un kit starter di base e quanto invece potrebbe costare un kit starter di base per invece la stampa delle fotografie. Sì, allora, per quanto riguarda l'attività di sviluppo a casa, ci si compra una tank della Patterson, di quelle piccole, e te la cavi con 40-50 euro, comprese di spirali. Dopodiché hai bisogno dei contenitori di plastica graduati, tre contenitori di plastica graduati da 15 euro totale più un termometro obbligatorio, 10 euro, e un set di chimici base. Chiaramente suggerisco di comprare piccole quantità di chimica, trovi delle boccette da 250 cc, che sono quelle amatoriali, diciamo, come quantità, così ne butti via di meno, se invecchiano, e anche lì con un'altra 20 euro sei a posto. Quindi con un centinaio di euro scarsi hai comprato delle cose di primo ordine, nuove, eccetera. Poi si può spendere anche di meno andando sull'usato per quanto riguarda la tank e qualcos'altro. Ok, però diciamo che di base 100 euro e fai il primo ordino. Poi è chiaro che i soldi li ammortizzi nei prossimi, cioè perché poi non devi più comprare il termometro e le varie cose. Esatto, esatto. Poi il materiale di consumo è solo la chimica, il resto dura una vita. E con un barattolo, per esempio, da 250 ml, quante stampe potresti fare, ammesso che tu le apri? Cioè quanti sviluppi potresti fare? Stiamo parlando di sviluppi. E lì ci addentriamo in cose estremamente tecniche. Comunque con una storia di 250 ti fai, se sei bravo, dai 5 ai 10 negativi. Ok, perfetto. Sì, una decina di negativi, ma il problema è la vecchiaia, insomma. Ok, sì, è quello. Riguardo a questo Alessandro chiede, spesso riguardo alla fotografia analogica, si dice che le sostanze chimiche utilizzate siano pericolose. Quanto sono pericolose davvero queste sostanze? Allora, chiaramente, escludiamo il discorso di andarcela a bere di guida in acqua o caffè. Esatto. Farci gargarismi non va bene. Allora, nella fase di attività di camera oscura hai due tipologie di contatto, la respirazione e il contatto con la pelle. Per quanto riguarda il contatto con la pelle, può esserci qualcuno che è allergico e lo scoprirà solo facendolo. Chiaramente non bisogna mettere le mani dentro i chimici, può esserci un avvenimento accidentale, una goccia, o metterci una mano dentro, un dito, non succede niente, ci si sciacqua e buonanotte. Per quanto riguarda la respirazione, l'inalazione di questi vapori, io non ho mai avuto problemi, sono vent'anni e sicuramente un amatore non può avere problemi perché l'attività amatoriale dura qualche ora per qualche volta alla settimana e non c'è nessun problema, insomma, basta forse non avere un locale estremamente piccolo e non areato. Io lavoro chiaramente in un locale grande, areato, e problemi non ne ho e faccio dieci ore al giorno da vent'anni e fumo anche le sigarette. Però dipende da persone, e vivo a Milano che è la città più inquinata d'Italia. e ho il negozio su strada sulla via Solari che a parte questi periodi terribili c'è la coda perenne con le macchine e con i motori accesi. Ok, quindi mi pare piuttosto chiaro il messaggio che è tra quella. Sì, diciamo un'altra cosa per gli intenditori appassionati avanzati, la chimica di oggi non è la chimica di alcuni anni fa. Purtroppo, dal punto di vista della qualità che è leggermente calata rispetto parlo di 50 anni fa, eh. Però sono molto meno nocivi. Quindi state tranquilli. Ecco, e dove si scaricano queste cose? Eh, questo è è un tasto dolentissimo perché c'è una differenza, parliamo di Italia chiaramente, in Italia io che sono un professionista e chiaramente produco centinaia di litri di chimica di scarto, ho tutta una procedura particolare, ho dei registri, il registro di scarico rifiuti, ho il Sistri che è un ente che controlla i rifiuti pericolosi, perché vengono considerati rifiuti pericolosi, quelli da da camera oscura, e ho una ditta specializzata che una volta all'anno viene a ritirare queste tani che io produco e stocco in magazzino. Purtroppo l'amatoriale non ha alternative che buttare tutto al cesso, perché in Italia, per quello che mi dia di mia conoscenza, parliamo della regione Lombardia, le isole verdi dell'Ansa dove vai a portare i rifiuti domestici eccetera, come liquidi ti prendono solo gli oli motore, gli oli da cucina e le vernici se non sbaglio. Tutto il resto che non rientra in queste tipologie non viene riconosciuto perché non sono in grado di gestirlo e quindi ti rimandano a casa insomma. cioè non puoi scaricarlo a norma di legge ecco non è contemplato insomma. Chiaramente in altri paesi d'Europa vai col tuo litrino ti ringraziano non paghi niente e ti regalano anche un adesivo come premio per la tua bontà d'animo o la tua correttezza ecologica. Qua in Italia non si sa ancora cosa fare. parlo soprattutto della Lombardia perché qualcuno mi ha detto che in qualche isola di discarico li hanno presi non lo so qui è così purtroppo per il momento. ok perfetto quindi abbiamo parlato del kit sviluppo intorno più o meno ai 100 euro e invece il kit di stampa quanto potrebbe costare? Il kit di stampa cosa intanto in che cosa consiste il kit minimo in un ingranditore un focometro ma neanche tanto un timer o un interruttore per accendere e spegnere la luce dell'ingranditore di quattro bacinelle delle pinzette e un timer carta e una luce rossa da appendere non so dove e qui diciamo siamo sui 200 euro come minimo ecco dai 200 euro in su il grosso del costo è l'ingranditore gli ingranditore si trovano a partire dai 100 euro ok che è la metà perché sì solo quello fa e e poi come funziona gli acidi scusami non gli acidi dimmelo tu la parola mi sfugge come si chiamano la chimica la chimica bravissimo la chimica come funziona in questo caso la chimica della stampa è simile come impostazione a quella del negativo quindi c'è sempre un rivelatore oppure sviluppo è la stessa cosa che disegna l'immagine però tra chi tra carta e pellicola il rivelatore o sviluppo è diverso sono due sviluppi diversi due prodotti differenti ok chiaro dopodiché invece c'è l'arresto che si fa tramite si utilizza o l'acido acetico l'acido citrico che è quel prodotto chimico che serve per pulire la superficie del negativo o del foglio di carta che è il medesimo e il fissaggio anche il fissaggio è condiviso tra negativo e stampa è lo stesso il fissaggio è quell'altro l'ultimo chimico che si utilizza per annullare la capacità della superficie emulsionata di reagire con la luce ok e questi chimici hanno in qualche modo anche loro una scadenza più lunga più corta si sfruttano di più come funziona allora entriamo nel tecnico tu quando vai al negozio a comprare questi prodotti chimici si chiamano si chiama soluzione stock tu compri una soluzione stock queste soluzioni stock acquistate hanno una durata di alcuni mesi una volta che hai aperto il barattolo queste soluzioni stock per diventare soluzioni di lavoro vanno diluite con acqua al momento in cui diluisci il prodotto che hai acquistato con acqua inizia un rapido deterioramento per vecchiaia ossidazione e quindi nel giro di alcune ore o alcuni giorni a seconda che si tratti di sviluppo arresto fissaggio vanno buttate via indipendentemente che abbiano lavorato o non lavorato se poi ci aggiungiamo anche il lavoro chimico che fa un prodotto chimico ovvero quanto materiale tratta quindi quanti fogli di carta stampi o quanti negativi sviluppi anche lì c'è una vecchiaia un deterioramento da lavoro ok è chiaro hai una capacità di spiegare meravigliosa davvero sto parlando più base che posso nel rispetto delle persone che magari non conoscono queste cose no no ma sei davvero bravissimo cioè vabbè non è che te lo devo dire io voglio dire però voglio sostegnarlo perché non è scontato quindi ok quindi insomma è il nostro che ti è fatto io vivo in un open space quindi ho il bagno il bagno è l'unica alternativa che ho oppure ho una piccola palestrina però devo spostare il mio cugino dalla palestrina e vedrò se riuscirò a farlo ok perfetto quindi però ovviamente per tutta questa cosa è meglio sempre come dire almeno appoggiarsi cioè fare un corso prima no e non buttarsi un po' raffazzonati perché immagino dipende dipende dalle persone alcuni partono con youtube blog tutorial libri che non è male e piano piano iniziano e scoprono da soli in autonomia tutto questo fantastico mondo e altri che invece vengono vanno a fare dei corsi da me o da altri perché non sono mica l'unico che li fa non comprano niente fanno il corso si rendono conto se piace non piace se fa per loro o no perché comunque sai affrontare spese risorse di spazio eccetera senza aver mai provato non è magari conveniente io consiglio magari di fare qualche esperimento in prima persona io faccio corsi di un certo costo perché preferisco avere pochissime persone faccio corsi soprattutto individuali oppure da piccoli gruppi massimo di 4 persone però ci sono altri colleghi che fanno corsi da 10 15 persone contemporaneamente lì ti costa pochissimo fare un corso ma già hai un'idea hai un'idea di che cosa vuol dire rimanere al buio in luce rossa per ore ecco perché quello è fondamentale se no non si combina niente piuttosto che caricare un negativo dentro una tank io non l'ho detto prima va fatto in assenza totale di luce cioè sei al buio totale lavori come un cieco non vedente e le operazioni da fare non sono semplicissime soprattutto all'inizio cioè devi avvolgere devi aprire il negativo quindi devi spaccare la latta del rullino che è il negativo più conosciuto devi spaccarla al buio totale devi sventrarlo tirare fuori questa striscia lunga un metro e mezzo e infilarla in una spirale in un certo modo non è proprio come dirlo ecco bisogna esercitarsi ecco diciamo che forse corregimi se sbaglio il problema più grosso è che per lo sviluppo ci sono una serie di cose a fare proprio fisicamente no non so al di là dell'attrezzatura bla 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 cioè ci sono delle cose che fisicamente da fare sono complicate difficili e non solo questo il problema è che se ne sbagli è finito il film capito cioè è proprio il caso di dirlo è finito il film esatto invece ho dei clienti che si sono presi nel panico totale perché erano al buio totale con su un tavolino un rullino aperto una tank che non funzionava eccetera che dopo 20 minuti su dati fradici hanno deciso di accendere la luce perché non ne venivano a capo può capitare è chiaro che io ti insegno che devi fare tutto devi sacrificare un rullino devi esercitarti alla luce per parecchie volte fai finta di essere al buio ma sei alla luce con un rullino che non vale niente poi ti chiudi gli occhi e sei sempre alla luce provi a caricare ad occhi chiusi e poi alla fine proverai al buio totale poi alla fine proverai con il rullino fatto il weekend al parco ecco chiaramente se parti con i rullini scattati in Giordania che è stato il viaggio della tua vita non è conveniente forse forse direi che non è il miglior modo per iniziare ok chiarissimo e invece nella stampa c'è un po' più di margine come dire ecco quali potrebbero essere la stampa è tutto molto più più diciamo meno rischioso perché tu puoi fare mille stampe stracciarne diecimila e comunque il tuo negativo è salvo ecco spendi solo soldi qual è l'errore più grande nella fase di stampa perché immagino nello sviluppo ce ne sono centomila no? sbagli ad aprire il coso sbagli a infilare tutto al buio e poi no ma quello che stai dicendo è il minimo poi il problema è lo sviluppo del negativo cioè decidere quanti minuti shakerare questa tank a che temperatura e che tipo di chimica utilizzare eccetera eccetera poi peraltro devi aggiungere al corso di sviluppo anche un corso di bartender per imparare anche lo shake fa dalla differenza se sei violento farà una cosa se sei troppo motion farà un'altra non ricordo che io ho visto ma c'è proprio anche un modo giusto di shakerare un certo ritmo cioè insomma non è proprio come dirlo ecco non è che ti metti lì shakeri shakeri e sei felice ok chiaro e invece con con lo sviluppo quali sono gli errori più comuni che si incontrano con la stampa intendi con la stampa sì pardon scusami eh con la stampa purtroppo tantissimi ma come in tutte le cose c'è un discorso di pulizia per cui hai hai troppa polvere non riesci a gestire la polvere per cui le tue stampe saranno pieni di polvere poi non so ha superato il problema dell'igiene perché si chiama così c'è un problema di regia della stampa che è tutto lì il punto cioè molti eh clienti amici mi portano le loro i loro prodotti domestici e spesso trovo stampe troppo grigie troppo scure perché perché lì hai sbagliato la scelta del filtro di stampa hai sbagliato la luce sotto la quale eh verifichi il tuo flusso di lavoro e quindi se usi una luce troppo forte eh la stampa ti piace e poi quando te le porti in soggiorno che c'è la luce normale eh la stampa non ti piace più perché l'avevi giudicata sotto una luce che non era quella corretta tantissime cose si possono sbagliare ma il bello è quello ah sì infatti ma invece per quanto riguarda il discorso della luce in mentre sviluppi bisogna comunque essere al di là della luce rossa ok ma bisogna essere completamente al buio con la luce rossa eh ci può essere delle basse luci con la luce rossa come funziona no bisogna essere completamente al buio eh si può sopportare qualche piccolo spiffero o qualche led di elettrodomestico ecco un il test più facile sono vari test per giudicare la tenuta di luce di una camera oscura si chiama così praticamente la luce bianca è la nemica della camera oscura ci vuole solo la luce rossa ci sono vari tipi di test il più empirico e stupido che consiglio io io sono uno che semplifica il più possibile perché questo è giusto per chi si deve divertire ti chiudi nella tua camera oscura spegni la luce di sicurezza rossa quindi hai solo le luci parassite hai in mano un foglio bianco se dopo cinque minuti che le tue pupille si sono abituate all'oscurità non vedi il foglio bianco sei tranquillo hai una tenuta di luce buona in camera oscura se cominci a vedere il foglio bianco che hai in mano vuol dire che c'è qualcosa che non va non è proprio cioè perché stavo pensando nella palestrina quella di cui ti parlavo prima non ho le persiane quindi sicuramente lo vedrò il foglio bianco perché comunque ho le luci parassita dalla strada del giro che entrano quindi devo mettere le persiane o mettere qualcosa che oscuri no 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 allora adesso tu caro stai diventando ricco e famoso con questo gioco delle interviste ai VIP sì per cui non fai altro che finita l'emergenza coronavirus chiamare un buon brianzolo che ti fa un box di tre metri per tre di cartongesso con tanto di porta e ti fai la tua camera oscura in mezzo al loft sì esatto o meglio mi piace tantissimo sì perfetto va bene un bel cubo di tre metri per tre per tre di altezza e hai bravi una camera oscura fantastica ok va bene farò così farò così perfetto e allora peraltro Andrea dice una cosa intelligente dice per esperienza personale consiglio di far sviluppare un rullino da un professionista e poi sbizzarissi a giocare con la stampa lì almeno i danni non sono distruttivi esatto questa è un'ottima è un'ottima scelta Alessio chiede ma l'argento si riesce ancora a recuperare l'argento dal fissaggio? sì è sempre possibile fare questa operazione però per essere una operazione redditizia bisogna consumare delle enormi quantità di fissaggio ok tra l'altro alcuni chiedono non lo faccio neanch'io è divertente questa domanda è uno che qualcosa sa del mio mondo infatti infatti tanti anni fa i laboratori avevano dei flussi enormi di lavoro e si pagavano le bollette recuperando l'argento da la chimica esausta ma facevano centinaia e centinaia di litri al mese io faccio centinaia di litri all'anno e quindi me ne guardo bene da recuperare l'argento perché dovrei comprarmi un macchinario costosissimo e non rientrerai mai neanche io delle spese ok quindi figurati uno in casa ancora meno e allora chiedono per sviluppare se si vuole acquistare il kit di partenza per lo sviluppo e la stampa dove si possono acquistare cioè ti riformulo un po' la domanda meglio acquistarli in un negozio fisico oppure si possono tranquillamente trovare online facendo una ricerca beh chiaramente online si trova tutto di più ma io sostengo tutti i negozi e gli operatori e i professionisti che si occupano di analogico li sostengo sia perché se lo meritano sia perché è anche conveniente per il consumatore cioè se vai in un negozio specializzato ti possono consigliare in base alle tue esigenze cose meglio o peggio per te qui a Milano c'è un grandissimo professionista che è Bilser Felix Bilser di pfg.photogroup che è il punto di riferimento nazionale per l'analogico in Italia e lui è in grado di consigliarti di fornirti tutte le attrezzature certo domanda sulla polvere banale forse no però c'è l'ambiente nel senso una casa vabbè ben pulita ok ma per esempio un garage potrebbe essere un problema in questo caso ad esempio per la polvere sono a conoscenza di clienti che usano il garage o la cantina sotterranea ok si può adattare con l'intelligenza la costanza si può stampare anche in un pollaio ok perfetto benissimo l'ultima questa è carina che non c'è tanto con la stampa ma col processo ancora prima dice che macchina fotografica analogica mi consigliate per iniziare una allora una reflex sicuramente perché è la più immediata dal mio punto di vista il periodo migliore per l'analogico è gli anni 70 e 80 una macchina analogica buona è una macchina analogica che non si rompe mai ma che abbia almeno l'esposimetro interno evitate le autofocus evitate le macchine troppo moderne che hanno i cristalli i piccoli display a cristalli liquidi deve essere una macchina elettrica o elettronica ma con i led e non con i cristalli liquidi perché si rompono e non si trovano più la marca più diffusa in Italia ma direi in Europa è Nikon quindi una bella Nikon semplice degli anni 70 80 con un'ottica 50 mm 200 euro e hai una signora macchina che ti dura una vita e anche di più bellissimo peraltro se si rompe si ripara con pochissimi euro ed è fantastica peraltro le analogiche non sono più in produzione non le fanno più no? ci sono alcuni artigiani chiaramente non in Italia se non eccezioni che fanno ancora delle fotocamere analogiche prestigiosissime artigianali ma sono dei gioielli di felegnameria e non le consideriamo ok mi sembra che forse la mamia faccia ancora delle macchine analogiche ma siamo ottimisti tra un po' ritorneranno anche i grandi produttori a fare l'analogico piuttosto che le Olga che sono le toy camera di plastica quelle sono prodotte ancora oggi certo però vabbè meglio iniziare con la Reflex dai un po' più ti dà un po' più sì diciamo che con la Reflex che è dotata di diaframmi e di tempi impari un attimo a fotografare però le toy camera non sono da sottovalutare sono delle armi potentissime messe in mano o esperta o intelligente o creativa e ho visto che c'è una usegetta con l'H con il rullino della Ilford sì è vero quelle le producono ancora oggi sì 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 le fanno ancora oggi e pensi che può essere carina anche quella per sperimentare provare a fare un rullino ogni tanto sì sì per sperimentare sicuramente la qualità è molto bassa sì però sai è anche cioè se vuoi fare un progetto magari un po' diverso dal solito con cioè in cui quello potrebbe essere un valore aggiunto anche perché quello è molto leggero metti in tasca e ce l'è ovunque tiri fuori fai clac non è che devi fare nient'altro si potrebbe fare un test insomma così sì sì qualunque strumento va benissimo l'importante è divertirsi e avere una mente creativa super e Alessio l'ultima l'ultima dice ci parli di carta da stampa ingranditore a grandi linee insomma senza entrare troppo nel dettaglio certo allora per quanto riguarda gli ingranditori consiglio caldissimamente di optare per marca Durst la marca Durst che era una fabbrica che operava a Bolzano fino agli anni 2000 ha prodotto tantissimi ingranditori di vari livelli quindi dall'amatoriale bassissimo al semiprofessionale o al superprofessionale sono estremamente diffusi si trovano pezzi di ricambio si trovano accessori per completare il il la dotazione diciamo e sono i migliori in assoluto quindi Durst assolutamente li si trovano dai 100 euro ai 1000-3000 euro a seconda del tipo per quanto riguarda le carte Ilford Ilford sicuramente politenate baritate ci sono carte neutre ci sono carte calde che si chiamano warmton o ci sono delle carte fredde che si chiamano coolton le carte fredde io non le capisco molto perché non ci trovo un granché di freddo quindi io se devo fare delle stampe fredde uso un selenio che è un viraggio al selenio che dà delle intonazioni leggermente fredde metalliche e mentre le warmton quelle sono molto interessanti ok perfetto benissimo Jacopo è stata una figata di interviste cioè bellissima grazie non solo siamo riusciti spero perlomeno ma da fruttore dell'intervista posso dirlo insomma con una certa dose di certezza siamo riusciti a esplorare il mondo analogico così da avere come dire più idea di quello che è il lavoro dietro appunto lo sviluppo la stampa eccetera anche per poterlo fare a casa ovviamente questa è come dire una parentesi poi ci sono milioni di argomenti a approfondire e se una persona certo vuole iniziare a sperimentare può farlo dopo aver visto questo video magari si va a documentare ancora meglio sulla specificità per la quale vuole iniziare però insomma può iniziare a farlo anche in modo autonomo se poi vuole approfondire capire meglio capire dove ha sbagliato soprattutto migliorarsi allora poi puoi fare un corso o comunque insomma rivolgersi a persone esperte è stata bellissima grazie grande è stato fantastico davvero chiudo di solito facendo tre domande sì la prima è un libro che consiglieresti allora il libro che consiglierei è questo qua uno dei miei libri preferiti è Sebastiao Salgado Africa bellissimo tanta roba poi invece un film che che consiglieresti o una serie tv uno dei miei film preferiti che ha un'ottima fotografia è il e non solo anche un'ottima protagonista è il film Malena di Tornatore ok una bellissima Sicilia bellissimo e in ultimo invece un oggetto sotto i 10 euro che potrebbe tornare utile a appunto a una persona che si approccia in questo caso dai facciamola proprio specifica alla fotografia analogica eccola qua ma cos'è una macchina è una è una Olga 120 l'Olga 120 costa un po' più dei 10 euro ma sul mercato dell'usato ognun mercatino la si può trovare a questa cifra quindi una macchina di plastica che però monta i rulli 120 che non sono i rullini che conoscono più o meno tutti ma è un negativo già più grande più professionale ed è bello il contrasto tra un negativo dalle dimensioni professionali inserito in una macchina fotografica interamente costruita in plastica estremamente imprecisa che però ti può dare delle sensazioni e uno stile di lavoro molto molto particolare ma tutto anche cioè è una compatta quindi con l'obiettivo non si può cambiare e anche l'obiettivo in plastica si può mettere l'obiettivo no 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 non si può cambiare niente ci sono un paio di diaframmi e il tempo di scatto è sconosciuto meravigliosa è stupenda bellissimo grazie davvero allora l'ultima domanda perché scusami me l'ho saltata questa me l'hai chiesta due volte e dice Adoado Songs ma invece da digitale stampato analogico cioè la domanda giusta l'avevi fatta qui ma se noi facessimo il processo inverso cioè fotografare con analogico una stampa digitale fotografare con l'analogico una stampa digitale può essere una bella stupidata da provare ok dai ma mi piace il modo in cui sei aperto alle innovazioni in qualche modo nonostante tu sia molto analogico inside sei però molto aperto alle insomma alle sperimentazioni ma io in realtà l'ho fatto sì l'ho fatto e l'ho fatto per lavoro adesso mi è venuto in mente adesso ok grande io sono anche un falsario purtroppo per fortuna perché mi diverte molto ho creato dei falsi analogici e quindi ho avevo un cliente ho un cliente che faceva degli scatti con il cellulare non vi dico per quale ragione faceva questi scatti col cellulare aveva bisogno delle stampe degli anni 50 mi ha fatto questa richiesta ha speso delle cifre esagerate qui dentro da me ma io sono riuscito a creare questi falsi d'epoca quindi ho ricevuto via mail questi file scattati con l'iPhone li ho fatti stampare da un laboratorio digitale con dei ritocchi fatti con Photoshop per alterare la realtà quindi mi sono fatto restituire delle gli scatti erano fatti a colori chiaramente mi sono fatto restituire delle stampe in bianco e nero estremamente morbide grigie piatte li ho rifotografati con la mia Hasselblad con una pellicola 400 quindi con una grana grossa che superasse la dimensione della goccia d'inchiostro che si vedeva nella stampa digitale quindi ho perso le gocce d'inchiostro ho ricavato questi negativi di medio formato e li ho stampati su delle carte inglesi che avevano lo stesso sapore delle stampe da album dei nostri nonni degli anni 50 ho fatto queste stampe utilizzando un obiettivo il peggiore che avevo chiaramente obiettivo da stampa dopodiché ho fatto delle tinture al tè caffè per dare l'ingiallimento della carta meravigliosa ho spuntato gli angoli della carta perché erano tagliati di netto ho messo nel mio portafoglio queste stampe per una settimana le ho buttate per terra le ho calpestate per un'altra settimana le ho lasciate in cantina bagnate nel posto più schifoso che avevo cercando di fargli sentire un po' di sapore di muffa di odore di muffa poi le ho rilavate ho rifatto tutto da capo e alla fine avevo mutato fuori una roba che mi sono spaventato pazzesco cioè sarei stato curioso ti ho dato un'idea di una delle mille sfaccettature del mio lavoro bellissimo super affascinante ed è per questo che amo il mio lavoro alla follia sono vent'anni che sono qua bellissimo e si vede benissimo lontano cento metri cento chilometri che ami quello che fai perché insomma hai anche una capacità di trasmetterlo non comune quindi complimenti grazie io ti ringrazio è stato un piacere immenso averti abbiamo aggiunto questo file che mancava e doveva assolutamente esserci perché insomma l'analogico è un mondo pazzesco da esplorare e anche con il quale divertirsi come dicevi tu perché tu lo fai per professione e ti diverti facendolo però chiunque può farlo a casa e insomma sperimentare provare divertirsi e poi la fisicità dell'analogico della trasformazione di un negativo in qualcosa di stampato deve essere qualcosa di pazzescamente bello e quindi grazie per esserci stato grazie davvero grazie a voi grazie saluto tutta la chat Claudio dice io le ho viste quelle stampe non so come bene può essere può essere ti mando un abbraccio grazie ancora per esserci stato ringrazio la chat e ci sentiamo presto grazie a te per avermi invitato ciao buona giornata ciao 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 ciao